Buongiorno! No, non facciamo neanche finta Cioè? Tipo che ci sia andato tutto malissimo No, oggi è una bellissima giornata Sì, una bellissima giornata perché ci amiamo molto e abbiamo un bambino splendido Oltre a questo? Perché abbiamo la fortuna di aver di aver trovato la casa Abbiamo firmato il contratto E lui ha fatto il bravo E lui ha fatto il bravo E lui ha fatto il bravo stranamente Perché ragazzi è stato un inferno Adesso andiamo Non so cosa stia dicendo Stia dicendo che vuole andare a fare un giro Perché ragazzi è stata una guerra Sì Siamo stati a tavolo tre ore nette Ma a un certo punto sembrava Non fatta Sembrava non fatta Infatti a un certo punto ci guardiamo E diciamo no Non firmiamo La tizia era disperata La gente immobiliare Gentilissima Sì, devo dire la signora Abbiamo avuto Ragazzi Io non direi fortuna Ma abbiamo avuto Non mi fa d'altra voce Perché il ripetitore mi ripete Il culo è bastante Cioè lei è proprio carina Carina nei modi Disponibile Eeeh Cioè anche quando dopo tre ore Le abbiamo detto no Non era per niente scocciata Anzi diceva Avete ragione Perché stavate Era Sì Cioè Ne troveremo un'altra È difficile ma ne troviamo un'altra Sì Gli affitti ce ne sono pochi Ma Ma la troveremo C'è Riky che poverina è stanco Perché alla fine siamo stati Da stamattina Io mi sono svegliata Stamattina ho fatto il mio esercizio Eh Quotidiano Eeeh Eravamo gli Poi ci avevano chiamato Ho aperto Ho acceso il telefono E ho visto che Dovevamo arrivare mezz'ora prima Quindi Invece no Siamo arrivati quasi 20 minuti dopo Perché però non è tutta colpa nostra Nooo per il parcheggio Comunque qua Ah no Sì Vabbè oltre al parcheggio Vomitino Sapete che Vomitino Proprio in estremis Alla fine Ha deciso di Inaugurarci Inaugurare la macchina Con un bel vomitino E quindi Siamo arrivati un attimo in ritardo Quindi tutto di corsa Infatti io tipo Ho il tempo di farmi una doccia E c'è vedete come sono uscita C'è proprio così che Un Casper Hai messo i due primi stracciati De Louis Vuitton Che hai trovato Ma professione fammeli vedere Questi stracciati di Louis Vuitton Che vorrei sapermi anche io Ma questa camisetta Non è di Louis Vuitton Nooo No? E quegli shortini Non sono di Louis Vuitton Nooo Nooo Piccata a saperlo Domani te li compro Ah vabbè Se ritrovo Guarda ti giuro che se qua dentro c'è un Louis Vuitton Facciamo shopping pazzo proprio Pazzo C'è quanto desidererei E dico Lo troviamo lì così A sorpresa A sorpresa Di fianco tra uno Stradivarius e un Bershka Tra Louis Vuitton No vabbè A me non è che mi porto a più di tanto Di Louis Vuitton No diciamo che io spenderei soldi Così tanti soldi Per degli abiti Per degli accessori Per dei viaggi Brava Per dei viaggi Per dei viaggi Spenderei Allora poi sei milionario Sì Sì Tanto il viaggio te lo fai comunque E tra un viaggio e l'altro mi prende l'ultima borsetta di Non di Louis Vuitton Che comunque è quella più commerciale Andrei su qualcosa Bottega Veneta Andrei Andrei su cose veramente Ma dov'era amore che già avevamo visto Che c'era il negozio con le ciabattine Ah a Biarritz 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 A confine tra la Francia e la Spagna Ancora Francia al nord Eh Ciabattine Da Orribili Hermes Di Hermes Nooo ma che 3-400 è? Ma va Aggiungi qualche zero 3-4 mila? Eh sì Ah forse sei da di due Ma no 4 mila euro per un paese Delle ciabatte orribili tra l'altro Delle ciabatte veramente Amore delle ciabatte Orribili Poi sei massimo morale Ragazzi scusate che Cioè L'inquadratura secondo me è troppo vicina per me No Ci si vede troppo la mia faccia Risplendi Un po' bellezza Qui da Ospiti speciali di Dunkin' Donuts Dunkin' and Donuts Che tra l'altro hanno cambiato Coffee and Donuts o cose del genere C'è Ricky che sta facendo il piccolo chimico Io ve lo faccio vedere Cioè ha messo Non so se vi si vede Ha messo la Una parte di Di ciambella Di ciambella Dentro al Dentro all'acqua È un gioco Però poverina Cioè come abiasimarla Io intanto la prendo di qua Non ho preso il selfie stick Quindi mi fa male il traccio E quindi abbiamo la casa Finalmente Dopo 3 ore di trattativa Più? Poi siamo andati per la firma Ah Poi siamo andati nella casa A firmare Abbiamo fatto l'inventario di tutto quello che c'è Di quello che non c'è Tutte queste cose qui E quindi stasera si festeggia Sì stasera dove andiamo? E dobbiamo trovare un posto buono Ma cosa vuoi mangiare? Pesce Pesce O carne Scegli tu amore Proviamo un posto buono Non che di solito Non che di solito scelga Non che di solito scelga Io ragazze fallo vedere Perché questo È un momento che va ripreso La genialità di mia moglie La genialità Quindi ragazze Mi sa che scelgiamo Nooooo Ma ce l'ho fatto questo pasticcio? Questo pasticcio? Sì Amore mi prendi un altro caffè? E' caduta Voleva solo pervi un caffè ragazze E' caduto mamma? Eh sì La mamma è stata un po' sbadata Ha fatto come Ricky Ma la mamma è stata un po' tonta Che è una cosa diversa Mamma Diglielo Ricky Diglielo Non si fa mamma Mangia la tua ciambella tu invece No Capita ragazze Quindi vuoi un altro caffè anche? Sì grazie Comunque maziato Dai Alvaro Veloce Un altro caffè Amore da Louis Vuitton Sì ma un altro caffè da Dunkin and Donuts Ci fa sforare tutti No no Sono felice perché alla fine E' caduto Eh sì amore è caduto Vengono il papà Vengono il papà Fatemi Fatemi portatemi un caffè buono Che la mamma è molto esigente Finalmente ragazze potrò farmi il caffè Sapete come? Cioè è una cavolata Perché finchè ce l'hai non ci pensi Però non avere il caffè a tua disposizione Io sono una maniaca di Nespresso Ma veramente una maniaca A livelli spiegatati Cioè io ho ogni edizione limitata che esce Io la devo provare assolutamente Poi magari mi fa chegare Però la mia preferita in assoluto Non so se l'avete mai assaggiata Era tipo di tre anni fa Mi ricordo ero incinta E la versione al cocco Mamma ragazze Era una roba orgasmica Buonissima A me piace proprio il caffè Io non metto lo zucchero Io me lo degusto il caffè Mi piace un sacco E quindi non vedo l'ora di avere casa mia Per riavere la mia macchietta del caffè E vabbè Quando uno è frivolo Però vabbè Quindi sono molto felice Sono molto felice Perché la casa è perfetta E' perfetta anche per ospitare tutti i nostri amici Quindi tutte le mie amiche anche Che vogliono venire a trovarmi E così se non mi vengono a trovare Con la scusa di qualsiasi scusa Staccherò loro la parola Voi che mi sentite Sappiatelo Non dico nomi Non dico altri riferimenti Ma avete la vostra camera Di fianco la camera dei trucchi La nuova camera dei trucchi La nuova camera dell'Xbox No no Sessioni interminabili di FIFA Poi ci mettiamo anche Cioè questo è il tuo lavoro? Eh? Giocare all'Xbox E' better Dai 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 il mio caffè Guarda che i gamer professionisti Prendono anche Contratti milionari Ah quindi tu sei un gamer professionista No eh Ragazzi voi dovete Non lo sarò mai se ragione così Dovete sapere che c'è in atto E' qua amore il mio caffè? E' il tuo? E' il suo? L'ha già bevuto? C'è in atto una faida Tra lui 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 Ha mangiato il primo dolce dopo un mese Ma stamattina non ho fatto colazione Fa vedere la ciambellita Alla Homer proprio Dedicala a Angolo Angolo guarda che cosa sta mangiando Perché le piacciono le ciambelle? No perché quello è il cibo spazzatura Ma ascolta Se il signor Bank in Andorra ci segue sempre E non lo segue Mister Trucchino Ehi Ciao Ciao La sorpresa così Eh sì La sorpresa Come sei su di giri E' bella E' nuova Scusate ma c'è anche Baby Trucchino Baby vomitino Baby vomitino Sì era poverino Era messo malissimo Saluta le mie amiche amore Ciao mamma Ciao Ciao Trucchine Ciao Trucchine Questa è violenza sui minori Qui vedete la mia borsa Che è stata annaffiata di caffè No amore Non è nuova E' sempre la stessa E qua c'è il mio caffè La realtà è che ne cambiamo una al giorno Sempre uguali però eh Questo è il mio adorato caffè Che io adesso berrò E intanto riprenderò Big Trucchino Che sono veramente entusiasta No ragazzi siamo un po' stanchi E infatti adesso Siamo in quella fase punto di domanda In cui ci chiediamo Cosa facciamo? Usciamo stasera a cena Ce la teniamo magari Intanto siamo venuti qua A fare l'aperitivo In questo posto che Sono davvero carinissimi Mi faccio vedere Si chiama Abla de T Io qua vengo tutte le mattine A bere il mio caffè No ma sono gentili Tante volte gli esercenti Si perdono in piccolezza Ad esempio Ogni volta che vedono richi Gli danno due o tre caramelline Caramelline che loro Un paccone gigante da mille Gli costerà un euro Sì 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 Però sono veramente veramente Molto gentili Un gesto carino Fa piacere Sono carinissimi Un giorno non avevano ancora aperto Però hanno detto No per il caffè venire Sì sì Sulle cose che fa la differenza Non so se andremo a cena Ma magari ci possiamo andare anche domani Domani sarà una giornata infernale Perché dobbiamo fare tutte le robe burocratiche E intanto Trucchino guarda la sua comida Che sta arrivando È stato un caffè solo espresso Sei proprio carino Viene e ti dice che sa cosa prende Sì Guarda che so che sei qui Tu sei con te È vero è vero La mattina quando entro Sanno già che cosa prendo io Piccolezza No no Mi piace Guarda 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 il baby trucchino che impazzisce per le olive E manno il nocciolo e Oricchie Tra poco ti arriva il gelato Adesso arriva il gelato E invece la mamma cosa ha ordinato Per fare l'aperitivo Caffè e I birones alla plancia Io direi Dopo il gelato si vuole Un mix di mare e monti E estremi rinipolano Eh no amore, quelle ce le hanno il nocciolo Ce l'hanno il nocciolo Ce l'hanno il nocciolo Amorino Avendo finalmente una casa E non essendo più senza un tetto Guarda guarda che è arrivato il gelato Buonissimo Ma che bello Di grazie ragazzo amore Bravo Ma che bello questo gelatone Aspetta che adesso papà ti aiuta Che la mamma Ah bravo Bravo eh vedi Non ho messo la mia emergency bag dentro Perché siamo a 5 metri da casa Sì sì noi abitiamo Dentro quella Cioè lungo questa via Che è il centro E subito a sinistra Abbiamo la casa E sopra c'è lì il terrazzo Quindi siamo proprio sotto casa E non avevamo voglia di stare lì Io sono veramente distrutta Infatti l'avrete capito che Evito di riprendere la mia faccia bellissima Sì ma Poi uno dice Oh ma brutti rimbambiti Cioè l'avete voluto voi Ma infatti non è che ci lamentiamo Ah no no Cioè gasato Sì 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 Due mesi che fai Eh due mesi Due mesi Di più Cioè alla fine tra una cosa e l'altra Siamo in ballo da veramente un sacco di tempo Sì però proprio negli ultimi due mesi non c'è stato un giorno Ma che bravo che sei cucciolo Stasera la mamma ti taglia i capelli E' un gelato E' una nemica al cubo di Rubik Ma il mio cucciolo è bravissimo Cioè che bravo sta mangiando il gelato Eh vabbè è bravo Lo immagino a vent'anni Ma che bravo hai fatto la pipì da solo Beh voi ci state scherzando Aspetta che è libero libero Ehm No a parte sì a parte pipì pipì adesso lo stiamo spannolinando adesso E' ancora presto per cantare Vittoria E' vero Vittoria 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 Tante robe da fare però per la scuola possiamo solo andare a vedere Perché finché non abbiamo la residenza non possiamo stare in testa E poi oggi abbiamo visto anche per quanto riguarda i piani per la wifi a casa e tutto Cioè è sempre sono tante mille robe da fare Comunque le fai con piacere però finché No ma poi devi stare concentrato tre volte tanto perché te lo spiegano in spagnolo Eh sì Quindi ogni roba che chiedi solo per chiedere se ci fossero le... perché qua è un po' diverso Spesso il prezzo che vedi delle... E senza IVA Senza sì le loro imposte Senza imposte Quindi devi capire se devi addizionare o è prezzo finito Addizionare però mi piace perché già ho l'addizione Hai visto? Mi piace stupirti giorno dopo giorno Piccioncino Penso se ci chiamassimo veramente con questi nomi Cuore Cuore mio Ma magari i primi tempi Cuore mio Ma tipo no piccioncino... no cos'era una cosa... piccioncino salmace No aspetta aspetta no no una cosa avevo sentito quando ero qualche anno... qualche anno fa tipo mio piccolo savoiardo immerso nel latte Vabbè ma sarà stata una parodia No no non era una parodia era una persona seria Sì Intanto c'è Ricky che deve aver trovato tipo una granella qualcosa Sì Riccardino è schifiziosino come la mamma Non ti piace Come non ti piace? Guarda ti aiuto il papà Ma va che te lo pappa tutto il papà Ma va che te lo pappa tutto il papà Non ti piace Non ti piacciono? Eh amore se non lo vuole non lo vuole Peccato no Perché poi è così bello Sì abbiamo sbagliato noi sai cosa Dovevamo dire di portare le palle Amore 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 Guarda cosa ti sei fatto Guarda guarda tira su Tira sul maglioncino guarda La mamma ha appena fatto la lavatrice adesso Oggi ne ho fatte due Questo maglioncino la sua diciamo Il livello di pulizia è durato È durato 22 secondi circa Niente è fissato con le olive E chi sei un gatto sei Sì sì anche Romeo è fissato con le olive Sì Niente Amore dagli le olive Eh ma sono con il nocciolo e gliele devo snocciolare Eh snocciolare Magari non le snocciolo in diretta Perché snocciolare Amore te le devo snocciolare Ma magari puoi usare anche un coltello eh Eh per quello che mi sono fatto in diretta Ah me la mangio Dico non riesco ma Sai che hanno inventato le posate Non so se le conosci Non ho mai sentito parlare Sono queste qui Sono posate Amore Servono per mangiare So da dove vieni tu Sono arrivata di recente Sei ancora entusiasta Però Non riesco a farlo Cioè Ma davvero? A snocciolarlo con le posate Dai lo faccio io Mamma mia Sì Cioè quanto Tieni E com'è che si fa? La tengo lambaradan Aspetta che qua sono Ragazzi cioè veramente Qua si vede che è un uomo Non riesce a fare due robe contemporaneamente Ma come c'è? È andato in crisi È andato in crisi È andato in crisi Amore la mamma te le fa Te le fa la mamma Papa sabla de mi Parami Allora intanto è arrivato il primo piattino E questo è? Che cos'è? Sono le papa sabla de mi con l'angostina Il... 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 Il pulpo Ma cos'è la langostina? Boh Tanto è un sugo Che ne so io No la langostina penso che sia tipo Che gambe Non mi ricordo L'avevamo già mangiata Le pentole langostine erano quelle? No quelle sono le langostine Ah Non lo so Però sembrano buonissime Beh allora Cimentati Beh provale Facci vedere Dai vai Facciamo tipo la prova del cuoco No La prova del cuoco penso che sia leggermente diverse Guarda che non devi scrivere un libro Non devi neanche fare una poesia Sanno di patate Eh Perché hai mangiato anche una patata È un passo Al final sono buone Sono molto buone Sì? Mi piaccio di pane Sono veramente buone Hablano proprio dei mini Amore cosa stai facendo? Non si tocca il pane se non lo si vuole prendere È arrivato anche il mio piattino I miei cipirones alla plancia Ormai sono diventata così Così scontata Che mangio solo cipirones alla plancia Sì anche la mattina tipo nel latte Nooo non è vero E le papas a rugadas con la salsine E le Questa roba che non so che cosa sia Penso L'ingrediente misterioso Non lo so sembrano funghi O tipo delle verdurine Non so cosa siano Tanto Ricky prende il suo camion Eh Devo dire che ti è piaciuto il tuo invece vero? No è caduto anche questo È caduto dentro È tocca mangiarlo adesso Vabbè Il nostro apericena Questa è un'apericena Sai che non lo volevo dire? Ci pensavo Per una apericena Ma non lo volevo dire Eh Deve lo dico io Vabbè Io mi avvento sui miei cipirones Io li adoro Perché hanno tipo il Aglio E prezzemolo C'è la cosa più semplice da fare E perché non li fai mai a casa? Ma ti pare? Io che cucino il pesce Una volta ha fatto il pesce al cartocchio È stata un'esperienza mistica ragazze Cioè 52 ore Si è comprata tutti La tuta di Masterchef Il video di Cracco e tutto 20 ore è venuta fuori una roba Mezza scotta Ha mangiato giù Più un pesce intero Tanto così Perché poi io lo sapevo Vedeva gli occhi del pesce Si impressionava Cioè non lo ha Diciamo stare Diciamo stare Diciamo stare Meglio che non lo cucino È stata colpa di? Silvia dell'angolo di Salidori E mi fa Va fallo semplice È semplice È semplice se sei capace Ma cosa vorresti a dire? È colpa del forno Andiamo noi andiamo insieme Corriamo insieme Dai correte insieme Corriamo Correte verso il tramonto Corriamo Ti do due metri di vantaggio vai Vorrei tanto ci fossero dei filtri In questa fotocamera Ma pensavo nella tua testa Per non dire a tutte le stupilate che dici No, morta Morta Però Sai che mi ricordi? Mercoledì Da vero? Mercoledì Adams Ta na 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 Ta na 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 Ma per il colorito Che poi non è vero È la luce in realtà È la luce che mi fa più cadaverica di quello che sono No, vabbè Io non sono cadaverica Sì, sì Vabbè che così Così è quello giusto Così Non so Vabbè Intanto vedete il frontone in tutta la sua maestosità Cioè 5 metri di fronte Una spanna Sì, la spanna No, la spanna è la testa Vediamo Testa di spanna Testa di spanna Testa di spanna Testa di spanna E Vabbè Intanto mi siedo Mi siedo qua Nel gioco di Ricky Perché sono stanca Mi alzo amore, subito Mi alzo Toccata in difficoltà con la sua coccinella La sua coccinella Cioè questa qua eh No amore, non mi posso sedere lì sulla moto È un po' troppo anche per me Non c'è Ma Va bene amore Come vuoi tu Decide lui Decidi tu Io faccio quello che dice lui Quello che dice lui io lo faccio No, comunque dicevo Sono molto stanca Siamo molto stanchi Però sono troppo felice Sì, anch'io Devo dire che sono davvero tanto felice Cioè non si evince dalla mia faccia Posso raccontare un aneddoto divertente Vai Su come oggi abbiamo risparmiato del tempo In maniera Per chiudere le gambe Praticamente in quelle tre ore Eh Che abbiamo passato all'agenzia immobiliare Eh Siccome come sapete non abbiamo internet In grado di caricare i video a casa Eh E quindi cosa abbiamo fatto Abbiamo aperto il nostro macbook Sì, è tra la legge spagnola Dicendo Me disculpo La contrassegna del wifi E ci hanno dato la password E abbiamo caricato No, vabbè che ci sarebbe servita comunque Sì, sì, serviva quella Non so cosa sta facendo Ricky Qui si sta impazzendo Non so Sta facendo un gioco poco Un gioco poco Sì Eh No, ma anche tipo andare C'è a casa propria A fare la wifi Avere una wifi che funzioni veramente E non che C'è la nostra vita la wifi in pratica Eh, vabbè C'è un ponte con la wifi E' meglio di una casa Eh, vabbè Però comunque La wifi Cioè Se ci lavori è importante Come magari Per chi lavora in borsa In mercati La wifi anche per loro Eh, anche per loro Per tutti è importante Eh No, no Infatti Sì, a parte che poi la wifi lì Ci serviva anche per controllare La legge Sì, le leggi Sì, sì Cioè io Mi chiama Abbiamo trovato un sito che riportava le leggi spagnole Lei non si fidava Mi ha fatto andare a prendere le leggi di Juan Carlos Re di Spagna del 94 Poi però c'erano gli aggiornamenti C'erano gli aggiornamenti Io volevo leggere la legge aggiornata Con tutte le modifiche Voglio vedere nero su bianco A me piace vedere le cose nero su bianco Bianco Amiche.tv, sta dicendo Amiche.tv, amore, è un canale rivale È un pagliaccio È un pagliaccio È un pagliaccio Chissà da chi avrà preso Io non lo so, amore Lo scopriremo solo viverlo Non lo so Anche io ho proprio voglia di avere una casa Tornare soprattutto un po' di routine Adesso non è che si debba essere Troppo rutinari Ma avere un po' i tuoi rizi Ma questo è anche trasferirsi Se ti trasferisci un po' totalmente Di punto in bianco Non è che hai fatto un trasferimento Graduale È stato totale subito Non è che sei venuto qua e hai trovato casa Poi sei tornato in Italia Come fanno molti Però meglio così Anche perché poi le cose si allungano sempre Anche quando eravamo venuti Le volte precedenti per provare a fare Un po' di robe burocratiche Poi alla fine ti dicono Sì sì in tre giorni fai tutto Poi ogni roba ci vogliono 20 giorni Vabbè facciamo una passeggiata Sì in questa passeggiata Nella diciamo via principale di Tell Ma adesso ancora un po' di gente c'è Però dopo poco scompare tutto E la città dorme Dorme totalmente Vuole più bene a quel gatto Che a qualunque altra cosa Sì onestamente è vero Sì ma lui non contraccambia No lui è innamorato Guarda che sono arrivati tutti e due Siamo una cosa sola Vedi i fatti che si struscia Siamo un'unica entità Io e Romeo Molto interessante Tutto molto interessante Io voglio bene a tutti e tre i gatti Ma non siamo da Maria De Filippi Com'è la tua storia con Romeo Una storia con Romeo Una storia d'amore Amore vero E ci conosciamo da quando è nato praticamente Vabbè ragazze ok E chi è che te l'ha regalato? La mia ex Ah è tutto Si fa ancora più interessante Questa storia Dai buonanotte ragazze Ci vediamo domani Ma invece il tuo gatto rosso Quello che hai mostrato Sì Quello addirittura Com'è che si chiama Che non mi ricordo Perché mi vuoi far svergognare Così davanti a tutti Che si chiama come il suo ex Perché hanno fatto delle cose positive Sì sì Sicuramente Sì sì Cioè che poi parliamo di ex Come se ne avessimo avuti 20.000 Io mi sono fermato a 22.000 Comunque A parte questo Come sei romantico in questo scorcio Sì perché guardo Potresti anche tipo cantare Prendete quelle canzoni tipo melodrammatiche No faccio la roba davvero Davvero un po' Sì Sì cosa ci vorrebbe Un detox qua Eh via Ah è vero È vero Aspetta Sotto che te lo procuro Ti procuro La tua roba da Instagrammare Sì Quella che È degna Per te io quando mi sveglio la mattina non riesco mai a fare la mia pigna perché questa pigna mi ha veramente riconciliato con il mondo grazie pigna anche se cade non c'è di nulla tu e la tua pigna questo non è un sponsorizzato ragazze è solo che io amo veramente la mia pigna no purtroppo sai che non metteva a fuoco bene te e la tua pigna ma comunque dici purtroppo 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 dovresti riabbracciare la pigna questa pigna per me infatti forse c'è al posto di prendere la mia dovrei prendere la pigna la mattina sei spenta ti senti stanca non ce la fai ad alzarti dal letto prova super pigna con super pigna riuscirai ad affrontare tutte le fatiche della giornata ma te la devi dare in testa però vabbè ragazze abbiamo trovato la casa cioè siamo non ci credevo infatti cosa stai facendo no e poi hai detto no è vero no no perché si è creata quella situazione in cui io ero io in verità non ci credevo molto cos'è che ho le lacrime agli occhi mi bruciano gli occhi dalle lacrime allora surrega un attimo questa pigna sui tuoi occhi è una pigna magica eh lo so no neanche io ci credevo no perché si era fatto negli ultimi giorni tutto molto difficile e si era tutto in molto stand by amore guardo l'orizzonte amore ma ti ripiti eh ti ripiti eh quanto sei poco poco leggiadro io? no amore no 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 va bene va bene va bene non voglio dimostrazioni perché volevo potevo fare tipo il passo del marpione no 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 comunque fa fatica a mettere a fuoco sì eh sì forse perché è buio no amore perché non puoi riprendere il sole senza essere bruciata senza rimanere bruciata è così no ragazzi ragazzi oggi io ve lo dico c'è stato un momento in cui l'ho guardata ci siamo guardati e abbiamo detto no non la prendiamo sì alla povera gente immobiliare che poi è gentilissima bravissima ma questi dell'alchiverde sull'affitto non è che ci guadagnino così tanti no è più una rottura di balle esattamente come in Italia loro ci sperano di più perché sperano che tu se sono furbi come lei che magari tra tre anni due anni quando è poi tu decidi torni da lei e allora sì 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 però c'è in verità adesso c'è tipo se c'è qualcuno se viene qualcuno io mi chiedesse un consiglio io consiglierei lei a occhi chiusi cioè lei si è proprio comportata bene sì anzi sì sì a chi la vuoi consigliare quando vengono magari delle donne a trovarmi a tua insaputa che ti dico che vado a fare delle commissioni alla spalmas madonna ragazze come fai ad essere così così prestante con tutte non lo so la mia pigna perché la mia pigna dà una potenza sessuale del più 300% mai più donne insoddisfatte con la pigna quando ci siamo detti no non ce la facciamo sì il mio cuore piangeva no perché i giorni erano pochi comunque è andata così poi sentivo quello la gente che rappresentava i proprietari che urlava come un disperato ma non capivo cosa diceva sì sì perché nel frattempo poi c'era un ragazzo italiano molto gentile anche lui molto carino napoletano di Napoli sì non mi ricordo il nome no neanche io non me lo ricordo il mio nome è Paolo Paolo però ci ha aiutato molto ha cercato di sì sì ha proprio fatto da cioè ha chiamato amoso duro è amore eh scusami tanto mi perdo nell'orizzonte dei miei pensieri no amore stai diventando in futuro non può che sorridere quando tu scegli la vita ma ragazze sai che io faccio vedere questi video a tua mamma sì sì anzi 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 li faccio vedere a tuo papà sì sì ecco lui potrebbe perché mia mamma già lo sa come era da ragazzino facevo finta di essere morta mi facevo trovare in casa morta la cosa che sta in castigo da oggi fino ai vent'anni sì fino ai vent'un'anni e quindi ragazze ci siamo ci siamo e a breve a breve a breve a breve potremo entrare credo che ci diano le chiavi tra pochi giorni settimana prossima sì forse tra una settimana la casa è già vivibile perfetta non ha bisogno di imbiancature niente di niente poi l'hanno pulita uno la ridà però è già anche molto pulita no no l'hanno pulita prima di sì 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 l'hanno fatta pulire e tra l'altro avremo anche dei vicini molto carini molto simpatici molto gentili e tra l'altro sono due signori di una certa età tipo 70 70 infatti la signora mi ha detto che ha una figlia della tua età davvero bella sì sì viva Salamanca non ti ho chiesto dove viva sai era per dirti che è lontana è lontana che ne sai che magari l'amore non ha limiti mi porta in una trasferta burrascosa di sentimento a Salamanca no ragazze ma veramente guardate che sta prendendo una brutta piega prima la mia pigna la metto in valigia ecco la mia pigna vado ovunque non so se me la fanno passare i controlli mi chiedono a caso ci fai con una pigna io dico ma tu no però adesso ragazze ascoltatemi bene se domani Belen iniziasse a farsi vedere con sempre una pigna che esce un po' dalla borsetta cioè nell'estate inizieremmo a vedere gente tra cui magari anche mia moglie con la pigna che esce dalla borsetta io gli direi ma quella borsettina lì piccolina è amore amore ma me lo chiedi non ci entra la pigna ma dove vai se non ci entra la pigna cioè come quando deve prendere un vestito ah quest'anno va il ma cosa vuol dire quest'anno va il però vabbè questo era un angolo così un angolo di saidori con saidori abbiamo una faida in corso ragazze io vi chiedo proprio ufficialmente di supportarmi nella sfida perché è un infame saidori nel senso brutto del termine allora era tre anni che non giocavo a Razzo tre anni fa manco sapevo chi fosse saidori Razzo era un giochino sul telefono no tre anni fa sapevi chi era saidori perché io guardavo i video che ero incinta ero incinta il tempo avrei pensato di avere l'onore e l'onere anche di adesso lei ha riscaricato Razzo si è allenata come una pazza e dopo mi ha sfidato mi ha sfidato io le prime le ho perse adesso abbiamo una sfida in corso molto importante quindi io vi prego di scrivere nei commenti se ti fate per me se ti fate per saidori E quindi? Allora cuoricino per Saidori No, cuoricino per Saidori Cuoricino per Saidori E pollice in su invece per me Ok, ok Scimmia per Saidori Ok, allora facciamo sugli animali che piace anche all'alice Allora scimmia per Saidori Scimmia per Saidori e per te Tricchicco No, panda, panda Perché panda? Un po' le occhiaie Un po', mazza, tu ne definisci il concetto di occhiaia Ma l'occhiaia fa l'uomo più bello Anche lì, se domani, no beh, corona, lasciamolo stare Ma se domani Justin Bieber Justin Timberlake volevo dire Si facesse le occhiaie Avrebbero tutti gli occhiaie come me, come Justin È vero, amore, cioè Eh vabbè ragazzi, ho sposato un pagliaccio No Un panda Quindi scimmia per Saidori E panda per Ale Bravo, inizio a chiamarmi Ale Che l'altro giorno mi sono arrivati i messaggi Il mio amico mi ha scritto Era in una chat Era tanto che Tanto che non ci vediamo Sei partito e mi mancavi So che fai il vlog Ho provato a guardarli Dopo che ho sentito che ti fai chiamare Trucchino La mia opinione di te è cambiata Purtroppo è il nome che mi ha figliato lei Se avessimo Trucchino saluta le mie trucchine Ciao trucchine No, se avessimo chiamato il canale Che ne sai Sventrapapere.tv Sventrapapere.tv Sarai Sventrapapere E sarebbe forse un nome più da battaglia Però non è così Sventrapapere Vabbè ragazze Noi ce ne andiamo a fare la nanna Ma dove stai andando a fare la nanna? E dove andiamo? Facciamo il record di vlog Qual è il vlog più lungo Che tu abbia mai visto? E battiamo questo record Ma io penso che non è Penso che non sono felici le ragazze No? No Amore, senti nessuno Obbliga nessuno a vederla Facciamo un vlog tipo di 6 ore Ininterrotto Ma anche con il rumore della toilette Quando uno va in bagno Non deve essere male È solo da trovare il titolo Non ti immaginerai mai cosa succede In questo video Alla quarta ora e 52 minuti Ma lo capirai Solo se guarderai tutto Bene ragazze Buonanotte Good night And good luck